Allora Giovanni, siete in onda? Palappa come stai? Bene, 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 bene Siamo con le cuffie E' così, allora che ne pensi del V4 che hanno lasciato a casa il bicilendrico E' la morte che ci voleva il V4 Con il regolamento che c'è attualmente da diversi anni E' impossibile vincere col bicilendrico Ora vi traduco in italiano Ha detto che il superbike c'è il bicilindrico E lui si è rotto i coglioni, il bicilindrico No, non mi sono rotto i coglioni Però è impossibile vincere la regola del capitano volgare col bicilindrico Chi era il più cattivo? Che ti ha dato più fastidio in carriera? Ti hai conto con quelli eroici, storici, leggendari Pogarty, Russell, chi era? Mi farà un cazzo di tutto a lui Cioè lui, chi era cattivo? Con quella che ti ha dato la mia fastidio Un antipatico, un antipatico